11. 13.18 IDT. A bordo del comando aviotrasportato. Il presidente degli Stati Uniti, con gli occhi affossati in crateri viola sul volto cinereo, guardava fuori dal finestrino di plexiglass alla sua destra e vide un mare turbolento di nuvole nere sotto il Boeing E4B. Lampi di luce gialla e arancione brillavano 10.000 metri più in basso e le nuvole ribollivano, formando cumulonembi mostruosi. L'aereo fu scosso, risucchiato verso il basso di 300 metri e poi con i quattro motori turboventola urlanti lottò per riprendere quota. Il cielo era diventato del colore del fango e la luce del sole era bloccata dalle nuvole enormi e vorticanti. E in queste nuvole, lanciate a 10.000 metri d'altezza dalla superficie terrestre, c'erano le macerie della civiltà. Alberi in fiamme, intere case, sezioni di edifici, pezzi di ponti, autostrade e rotaie, che ardevano rossi incandescenti. Gli oggetti ribollivano, salendo in alto come la vegetazione mossa che emerge in uno stagno, ed erano di nuovo risucchiati verso il basso, per essere sostituiti da una nuova ondata di spazzatura dell'umanità. Non sopportava di vederlo, ma non riusciva a costringersi a smettere di guardare. Con una trazione terribile ipnotica, osservò lampi blu sfrecciare attraverso le nuvole. Il Boeing tremò, si inclinò sull'ala sinistra e risalì di nuovo. Cadeva e si sollevava come una corsa sulle montagne russe. Qualcosa di enorme e fiammeggiante passò davanti al finestrino del presidente, e lui pensò che poteva essere stata una parte di treno, lanciata in aria dalle tremende onde d'urto e dai venti che con la forza di un supertornado percorrevano urlanti la terra riarsa in basso. Qualcuno allungò una mano e abbassò lo schermo di vetro fumè che chiudeva il finestrino del presidente. «Non credo sia necessario che guardi ancora, signore». Per alcuni secondi, il presidente ebbe difficoltà a riconoscere l'uomo seduto sulla poltrona di pelle nera di fronte alla sua. Hans pensò, il segretario della difesa Hannan. Si guardò intorno, con la mente in cerca di un equilibrio. Si trovava nel Boeing convertito a centro di comando aviotrasportato, nei suoi alloggi in coda all'aereo. Hannan era seduto di fronte a lui, e dall'altro lato del corridoio sedeva un uomo che indossava l'uniforme di un capitano della Air Force Special Intelligence. L'uomo sedeva dritto come un fuso, aveva le spalle squadrate e indossava degli occhiali da sole che gli oscuravano gli occhi. Al suo polso destro c'erano delle manette, e l'altra estremità della catena era legata a una piccola valigetta nera appoggiata sul tavolino di formica davanti a lui. Dall'altro lato della porta del cubicolo del Presidente, l'aereo era un centro nevralgico, pieno di schermi radar, computer che elaboravano dati e attrezzatura di comunicazione collegata allo Strategic Air Command, al North American Air Defense, al Comando Shape in Europa e a tutte le basi aeree, navali e ai CBM degli Stati Uniti. I tecnici che usavano quell'equipaggiamento erano stati scelti dalla Defense Intelligence Agency, che aveva scelto e addestrato anche l'uomo con la valigetta nera. Sull'aereo c'erano anche ufficiali della DIA e diversi generali dell'aeronautica e dell'esercito, in missione speciale sul comando aviotrasportato, che avevano la responsabilità di ricostruire un quadro generale dai rapporti che arrivavano dalle varie aree del conflitto. L'aereo aveva continuato a volare in cerchio sulla Virginia dalle 6 e alle 9.46 erano arrivati i primi rapporti elettrizzanti dal Comando Centrale della Marina. Contatto tra le squadre di cacciatori e un grosso plotone di sottomarini nucleari sovietici a nord delle Bermuda. In base ai primi rapporti, i sottomarini sovietici avevano lanciato dei missili balistici alle 9.58, ma i rapporti successivi indicavano che un comandante di un sottomarino americano poteva aver lanciato dei missili cruise senza una vera autorizzazione, nell'agitazione del momento. Adesso era difficile dire che avesse lanciato per primo. Ora non aveva più importanza. Il primo attacco sovietico aveva colpito Washington DC, con tre testate che si erano abbattute sul Pentagono, una quarta che aveva colpito il Campidoglio e una quinta la base aerea Andrews. Entro due minuti, i missili lanciati verso New York avevano colpito Wall Street e Times Square. Gli SLBM sovietici avevano superato la costa orientale in rapida successione, ma a quel punto i bombardieri B-1 erano in volo verso il cuore della Russia. I sottomarini americani, che circondavano l'Unione Sovietica, stavano lanciando le loro armi e i missili della NATO e del Patto di Varsavia stavano sfrecciando sull'Europa. I sottomarini russi, in agguato a largo della costa occidentale, lanciarono testate nucleari, colpendo Los Angeles, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland, Phoenix e Denver, e poi gli ICBM russi a testata multiple e agittata più lunga. Bastardi davvero cattivi. Erano arrivati, sorvolando l'Alaska e il Polo, colpendo basi aeree e le basi missilistiche del Midwest, incenerendo le città dell'entroterra in pochi minuti. Omaha era stata una dei primi bersagli, e con essa lo strategic air command. Alle 12.09, l'ultimo segnale disturbato del NORAD era uscito dalle cuffie dei tecnici. Ultimi uccelli partiti! E con quel messaggio, che significava che un'ultima ondata di Minutemen 3, o missili cruise, era stata lanciata dai sili nascosti da qualche parte nell'America occidentale? Il NORAD. Cessò le comunicazioni. Hannan indossava un paio di cuffie, con cui aveva monitorato i rapporti man mano che arrivavano. Il presidente si era tolto le sue quando il NORAD aveva smesso di trasmettere. In bocca sentiva il sapore della cenere, e non riusciva a sopportare il pensiero di cosa ci fosse nella valigetta nera dall'altro lato del corridoio. Hannan ascoltava le voci lontane, i comandanti di sottomarini e piloti di bombardieri, ancora a caccia di bersagli, o mentre cercavano di evitare la distruzione in scontri rapidi e furiosi a mezzo pianeta di distanza. Le squadre d'attacco navali di entrambi gli schieramenti erano state annientate, e adesso l'Europa occidentale era martellata dalle truppe di terra. Tenne la mente concentrata sulle voci lontane, e spettrali, che galleggiavano nella tempesta di disturbi, perché pensare a qualsiasi altra cosa che non fosse il suo compito immediato avrebbe potuto farlo impazzire. Non lo chiamavano Iron Hans per niente, e sapeva che non doveva permettere che ricordi e rimpianti lo indebolissero. Il comando aviotrasportato fu colpito da una turbolenza, che sollevò l'aereo con violenza e poi lo fece ricadere con velocità tremenda. Il presidente afferrò i braccioli della sua poltrona. Sapeva che non avrebbe mai più rivisto sua moglie e suo figlio. Washington era un paesaggio lunare di macerie ardenti. La dichiarazione di indipendenza e la Costituzione erano cenere nell'edificio infrantumi degli archivi, i sogni di un milione di menti distrutti nell'inferno della biblioteca del congresso. Ed era accaduto tutto così in fretta, così in fretta. Voleva piangere e voleva urlare, ma era il presidente degli Stati Uniti. I suoi gemelli portavano il sigillo presidenziale. Come se si trovasse a una distanza enorme e terribile, ricordò di aver chiesto a Julian come sarebbe sembrata la camicia a quadretti blu con il suo abito marrone chiaro. Non era stato in grado di scegliere una cravatta perché era una decisione troppo difficile. Non riusciva più a pensare, non riusciva a capire niente e il suo cervello sembrava un'unica, grossa caramella gommosa. Julian aveva scelto la cravatta adatta al posto suo e gli aveva messo i gemelli ai polsi. Poi lui l'aveva baciata, aveva abbracciato suo figlio e gli uomini dei servizi segreti li avevano portati nel seminterrato con altri membri del personale. È tutto sparito, pensò. Oh Gesù, è tutto sparito. Aprì gli occhi e rialzò lo schermo. Nuvole nere che al centro brillavano di luce rossa e arancione incombevano intorno all'aeroplano. Dal loro centro si innalzavano lance di fuoco e lampi che salivano per centinaia di metri più in alto dell'aereo. Tanto tempo fa avevamo una storia d'amore con il fuoco, pensò. Signore, disse Hannan piano. Si tolse le cuffie. Il volto del presidente era grigio e la sua bocca fremeva incontrollata. Hannan pensò che l'altro uomo stava soffrendo di mal d'aria. Sta bene? Gli occhi spenti si mossero sul volto pallido. A postissimo, sussurrò e sorrise appena. Hannan ascoltò altre voci in entrata. L'ultimo B1 è appena stato abbattuto sul Baltico. I sovietici hanno colpito Francoforte otto minuti fa e sei minuti fa Londra è stata colpita da una ICBM attestata multipla, comunicò al presidente. L'altro uomo era seduto come pietrificato. Che mi dice delle stime delle vittime? Chiese debolmente. Non arrivano ancora. Le voci sono così disturbate che anche i computer non riescono a ripulirle del tutto. Mi è sempre piaciuta Parigi, sussurrò il presidente. Julian e io abbiamo passato la nostra luna di miele a Parigi, sa? Che mi dice di Parigi? Non lo so. Non arriva nulla dalla Francia. E la Cina? Ancora silenzio. Credo che i cinesi stiano a guardare. L'aeroplano saltò e cadde di nuovo. I motori urlavano nell'aria sporca, lottando per guadagnare quota. Il riflesso di un lampo blu passò sul volto del presidente. Va bene, disse. Eccoci qua. Dove andiamo da qui? Hannan stava iniziando a rispondere, ma non sapeva cosa dire. La sua gola si era serrata. Allungò una mano per chiudere di nuovo lo schermo, ma il presidente disse con fermezza, no. Lo lasci alzato. Voglio vedere. La sua testa si voltò lentamente verso Hannan. È finita, vero? Hannan annui. Quanti milioni sono già morti, Hannan? Non lo so, signore. Non mi preoccuperei. Non mi tratti con sufficienza, gridò il presidente all'improvviso, così forte che anche il rigido capitano dell'aviazione saltò. Le ho fatto una domanda e voglio una risposta, una stima, un'ipotesi, qualsiasi cosa. Lei ha ascoltato quei rapporti. Me lo dica. Nell'emisfero settentrionale, rispose il segretario della difesa con esitazione e con la facciata di ferro che iniziava a creparsi come plastica scadente. Stimerei tra 300 e 550 milioni. Gli occhi del presidente si chiusero. E quanti saranno morti tra una settimana da adesso? Tra un mese? Sei mesi? Probabilmente altri 200 milioni il prossimo mese per le ferite e le radiazioni. Oltre a quello, solo Dio lo sa. Dio, ripete il presidente. Spuntò una lacrima che gli scese sulla guancia. Dio mi sta guardando proprio adesso, Hans. Sento che mi sta guardando. Sa che ho assassinato il mondo. Io, io ho assassinato il mondo. Si mise le mani sul volto e gemette. L'America è andata. Andata. S'inghiozzò. Credo sia ora, signora. La voce di Hannan era quasi gentile. Il presidente alzò lo sguardo. I suoi occhi, umidi e vitrei, si spostarono sulla valigetta nera dall'altro lato del corridoio. Distolse lo sguardo ancora una volta e guardò fuori dal finestrino. Quanti potevano essere ancora vivi in quell'olocausto? Si chiese. No. Una domanda migliore era quanti avrebbero voluto essere ancora vivi. Perché da tutte le riunioni e le sue ricerche sulla guerra nucleare aveva compreso una cosa con molta chiarezza. Le centinaia di milioni che morivano nelle prime ore sarebbero stati quelli fortunati. Erano i sopravvissuti che avrebbero dovuto sopportare mille forme di dannazione. Sono ancora il presidente degli Stati Uniti d'America, disse a se stesso. Sì, e ho ancora un'altra decisione da prendere. L'aeroplano vibrò, come se stesse correndo su una strada acciottolata. Per qualche secondo il velivolo fu avvolto da nuvole nere e in quel dominio oscuro fuoco e lampi sfrecciavano verso il finestrino. Poi l'aereo virò a destra e continuò a volare in cerchio, ondeggiando tra i pennacchi neri. Pensò a sua moglie e a suo figlio. Andati. Pensò a Washington e alla Casa Bianca. Andati. Pensò a New York e a Boston. Andati. Pensò alle foreste e alle autostrade sul terreno sotto di lui. Pensò ai prati, alle praterie e alle spiagge. Andati, tutti andati. «Ci porti lì», disse. Hannan aprì il coperchio di uno dei suoi braccioli e scoprì il piccolo pannello di controllo all'interno. Premette un pulsante che attivava la linea di comunicazione interna tra il cubicolo e la cabina di pilotaggio. Poi diede il suo nome in codice e ripeté le coordinate per una nuova rotta. L'aeroplano virò e iniziò a volare verso l'entroterra, allontanandosi dalle rovine di Washington. «Seremo nei paraggi entro quindici minuti». «Vole pregare con me», sossurrò il presidente e insieme chinarono la testa. Quando finirono di pregare, Hannan disse. «Capitano, siamo pronti ora», e cedette il suo posto all'ufficiale con la valigetta. L'uomo si sedette di fronte al presidente e tenne la valigetta sulle ginocchia. Sbloccò le manette con un piccolo laser che sembrava una torcia tascabile. Poi dal taschino della giacca estrasse una busta sigillata e la strappò, tirandone fuori una piccola chiave dorata. La inserì in una delle due serrature sulla valigetta e la girò verso destra. La serratura si disserrò con un potente suono elettronico. L'ufficiale girò la valigetta verso il presidente, che ugualmente estrasse una busta sigillata dal taschino della sua giacca, la strappò e ne estrasse una chiave argentata. La infilò nella seconda serratura della valigetta, la girò a sinistra e di nuovo si udì un tono acuto, leggermente diverso dal primo. Il capitano dell'aviazione sollevò il coperchio della valigetta. All'interno c'era una piccola tastiera di computer con uno schermo piatto che scattò in posizione quando il coperchio fu alzato. Alla base della tastiera c'erano tre piccoli cerchi, verde, giallo e rosso. Il verde aveva iniziato a lampeggiare. Accanto alla poltrona del presidente, fissata alla paratia destra dell'aereo, sotto il finestrino, c'era una scatolina nera con due cavi, uno rosso e uno verde, avvolti al di sotto. Il presidente li svolse con lentezza e concentrazione. Alle estremità dei cavi c'erano degli spinotti, che inserì negli alloggiamenti dedicati sul lato della tastiera. Il trasformatore nero adesso collegava la tastiera a una delle antenne retrattili lunghe otto chilometri che era trascinata dietro l'aereo del comando avio trasportato. Il presidente esitò solo qualche secondo. La decisione era presa. Digitò il suo codice identificativo di tre caratteri. «Salve, signor presidente», comparve sullo schermo. Si appoggiò all'indietro per aspettare, con un nervo che gli contorceva l'angolo della bocca. Hannan guardò l'orologio. «Siamo a portata, signore». Lentamente e con precisione, il presidente digitò. «Qui è bella donna, la signora delle rocce, la signora delle situazioni». Il computer rispose «Qui è l'uomo con le tre aste, e qui è la ruota». L'aeroplano fu colpito e scosso. Qualcosa graffiò il lato sinistro del velivolo, come unghie su una lavagna. Il presidente digitò «E qui è il mercante con un occhio solo, e la sua carta, che è vuota, è qualcosa che porta sulla schiena», rispose il computer. «Che mi è vietato vedere», digitò il presidente. Il cerchio giallo si illuminò. Il presidente fece un respiro profondo, come se fosse sul punto di tuffarsi in acque scure senza fondo. Digitò «Non trovo l'impiccato». «Temi la morte per acqua», giunse la risposta. Il cerchio rosso si illuminò. Immediatamente lo schermo si cancellò. Il computer comunicò «Artigli armati, signore, dieci secondi per annullare». «Dio mi perdoni», sussurrò il presidente, e il suo dito si mosse verso il tasto N. «Gesù», disse il capitano dell'aviazione all'improvviso. Stava fissando fuori dal finestrino a bocca aperta. Il presidente guardò. Da un tornado di case in fiamme a massi di macerie ardenti, una forma infuocata stava sfrecciando verso il centro di comando aviotrasportato come una meteora. Al presidente servirono due secondi preziosi per capire di cosa si trattasse. Un autobus Greyhound, schiacciato e maciullato, con le ruote in fiamme e dai finestrini rotti, e dal parabrezza pendevano cadaveri carbonizzati. «Il cartello della destinazione sopra il parabrezza», diceva Charter. Il pilota doveva averlo visto nello stesso istante, perché i motori urlarono mentre venivano portati al limite e il muso dell'aereo scattò verso l'alto con una violenza tale che le forze G schiacciarono il presidente sulla sua poltrona, come se pesasse 200 chili. La valigetta e la tastiera volarono via dalle ginocchia del capitano e i due spinotti si staccarono. La valigetta cadde nel corridoio e iniziò a scivolare incastrandosi sotto un'altra poltrona. Il presidente vide il relitto dell'autobus rotolare su un fianco, riversando cadaveri dai finestrini. Cadevano come foglie in fiamme. E poi l'autobus colpì l'ala destra con uno schianto enorme e il motore più esterno esplose. Metà dell'ala fu strappata via, con il secondo motore di destra che sparava fiammate come una candela romana che esplode. Strappati dall'impatto, i pezzi del Greyhound ricaddero nel vortice e furono risucchiati lontani dalla vista. Azzoppato, il centro di comando avio trasportato si inclinò sulla sua ala di sinistra, con i due motori ancora funzionanti che vibravano ed erano sul punto di staccarsi dai loro bulloni di sostegno sotto quello sforzo. Il presidente si sentì urlare. L'aereo cadde fuori controllo per 1500 metri, mentre il pilota lottava con fleppe e timoni sotto tensione. Fu colto da una corrente ascensionale che gettò l'aereo in alto di 300 metri e poi cadde di nuovo per 3000 metri. L'aeroplano si avvitò sull'ala spezzata e alla fine puntò verso la terra rovinata. Le nuvole nere si chiusero nella sua scia e il presidente degli Stati Uniti scomparve.